3 3 no? ahah nessuno ma le armor qua ci hanno derubati sono solo una blue ma scusami non è possibile capisci di essere sfortunato nella vita quando becchi solo una blue qua apri il bin qua al balcolone 3 qua ti puoi fare un bolt full praticamente arrivo avevo droppato un sacco di ammo e energy in top anche vai verso la watchtower te la più intanto coltiamo appena hai fatto sicuro? io ho fatto si 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 tanto ma la usiamo ho scannato qualcosa non poteva essere un bag ma sembrava sotto di noi mi ha scannato qualcosa in basso a sinistra ah ecco il team no? stanno craftando si si stanno craftando team d'artillery potete fare? no andiamo lunghi per la safe è vabbè in realtà non è neanche così problematica però possiamo gatekeepare se si arriva nella side fightiamo stanno arrivando arrivo arrivando sanno che noi sappiamo e loro sanno che noi sappiamo che vero sanno due blue so far stanno ai dando tre blue hanno tre blue non sembrano giga smart date un occhio a questo questo è quello più griffabile di nido guardate che si deve impostare fa un tp però aprirà guarda sia l'horizon traccata guarda l'horizon è stuccata lì ancora guarda puoi voltare qua? pushamola due se no sono dentro holdiamo l'horizon o pushamola due ha preso il tp anche l'horizon sono al mio side q up horizon quasi craccata l'horizon insieme un altro team da dietro un altro team 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 trecato l'horizon top io sono dead probabilmente tu no prendo i teleport prendo i teleport prendo i teleport mi sto battando prendo i teleport non ho la brettetta ha preso anche loro trecato uno trecato trecato mi hanno sticcato mi hanno sticcato forse muoio sono due flash forse muoiono di safe da me puoi restare pensa hai lo swap nel body dietro eh ma prima mi devo fare una siringa knockato da safe ora faccio una q ora faccio una q ora faccio questa siringa io ho ancora la mia ulti guardate che abbiamo un solo dietro a qualcuno ho un'altra gente credo di aver bloccato no ha rossato craccata l'horizon di nuovo io ho qualcuno sopra tipo ci sto dietro da me dietro da me ok andiamo dall'hap vieni andiamo dall'hap vieni andiamo dall'hap scendiamo statizio bella ok holdiamo quest'altra io faccio coprire il top qua si venite da me se avessi attachment le armi sarei morti 15 minuti fa mi sto dando un net mi vedeva bello bloccato che bloccato uno prendo spazio ballo mi devo tirare una buff prima bloccato sono sotto di loro oh sky nade sono sotto di loro posso fare una play bella dammi un secondo provo a restare stai in mano da me l'horizon è da me craccata la gira attiva su l'horizon 1 1 1 1 1 craccata anche il seer craccato il seer qua vai vai battati battati se ne sta andando vieni qua vieni qua che tirassi sono bella bella vieni trappi vieni qua arrivi qua guarda che flash qua vai vai full push full push c'è la in bravo mi si bat quanto ne avete scusatemi una uno ora ne do un'altra sopra così ne abbiamo tutti due tieni Sharpeau python di qua thanks servono med ne ho uno in grid flash ho uno python a base in una parte alta di base un incidente con un g7 non voglio prendere danno davanti a te Sharpe stanno pocando abbiamo uno in toppa griffabilissimo ci ha visti l'ho distrutto 150 provo a bloccare cura bloccare cura bloccare cura l'ulto dentro avete nade ok che abbiamo altro team sicuro varei traccata si sono bad sono bad hanno un tp che va out hai la ulti già ho già tirata ho già tirata la mia oh mi ha swingato da me guarda il top prendiamo il top sto bruciando flash bat low knock sto nella merda io sto bruciando la ulti di Sia sto bruciando sto nella merda giocate ve la slow ho uno graccato c'è una grata intatta oddami 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 ti blocca qua dietro la valet swinga dietro batta ok last si lo si attiva da batto batto altra squadra vieni vieni che c'è c'è giochiamo qui da me blocco mi sto bloccando la porta Sia low distrutta anche la watson knock cobro dietro Sia ancora low c'è l'altra porta E1 dietro troppai troppai qua nice sono sono molto utile come come comodino guarda che sarei morto dieci volte senza il comodino eh madonna come li hai tenuti mi hai fatto mettere una marea di danni ma io che li ho bloccati sulla porta regà ed erano tutti e tre davanti a me passavo troppo mi veniva troppo da rire e avevo detto ma io non ride qua in queste situazioni vai tono qua in top è griffabile per ragazzoli no dove sono? no sono lontanissimi sul mio ping abbiamo casa? vogliamo avvicinarci di là? possiamo andare più vicini il nostro non c'è nessuno prendiamoci lo spiazzo qua mi è sembrato di sentire la gente non sono sicura non vedo niente non vedo niente non vedo niente devo prendere info un secondo avanti ok per capire come se c'è gente dietro gente dietro gente dietro ovest bang craccata è dietro il pulmino ci sono almeno due almeno due guarda va il culto così me li spot tranquillo ho già preso si è spostati da di sotto craccata la bangalore bang e craccata l'ultima è lì ha incontrato un'altra squadra vado a finirmi la banga c'è un altro team lì eh c'è un altro team lì è una false annata si si giochiamo a laser abbiamo problemi di hitline arriva l'altro sta lì dietro ora dietro con la casa va a destra è un horizon io sto guardando il back raga sto guardando il back io così non mi hanno pinciato craccata va a larga a sinistra venti secondi muoiono di safe non lo vuoi griffo un altro team vai giù farlo sei ganna è andata dietro sta facendo il giro fuori zona non è vero ma sta trollando ma che vuole fare? vuole restare? ma che cazzo? in safe fa fight a noi ma possiamo andare in rig mi sa? abbiamo tutti i team abbiamo si vedono tutti i team possiamo andare su rig possiamo andare balloniamo? si si potete ballonare prendere il top di rig il mid io ho fatto il figlio di droga non ha bestaci nessuno pare di no si si adesso 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 li vedo io un in top e uno sotto in top davanti a me se vengo da te a sharp vengo da te gli sto finendo il knock non riesco a finire il knock blocco le gure mia eh posso andare sopra posso andare sopra si si faccio Q top per questo qua sotto a destra close su close a me ok pathfinder qua occhio che è un full team occhio già vado al retro ciao è top 2 comunque dobbiamo andarli probabilmente mi sali il path no? il path vuole salire sicuro mi salgo? no raga li ulto sotto di voi non ho nade 101 guarda questo dobbiamo droppare dobbiamo droppare slow slow bella la loba sale una sharp da me raccato bella perchè li veniva da ridere? perchè prima quando voi stavate fightando la bungalore il team che ho spottato ho perso tipo 10 secondi perchè non riuscivo a climbare un muro non riuscivo adevo